allora buongiorno a tutti allora oggi un video un po diverso dal solito vi faccio una comparativa tra due piani induzioni uno della bosch e uno della sauter questo qui al piano cottura che mi hanno lasciato i vecchi proprietari di casa bosch una marca che tutti conoscono sa per forse un po meno conosciuto soprattutto in italia qual è il punto il punto è che adesso siamo in un periodo in cui c'è stato un aumento molto importante del prezzo del gas per cui qualcuno magari è venuto in mente l'idea di ma perché non passo 100 per cento elettrico magari molti di voi ci hanno il gas solo per il piano cottura e il forno essi potrebbero dire ma se io mi faccio un piano cottura induzione il forno elettrico mi tolgo la bolletta del gas mi risparmio sti 20 30 euro al mese di da abbonamento alla fine dell'anno sono 240 250 euro risparmiati che buttali via insomma con la fame che c'è sta adesso però adesso per chi anni che c'è piano induzione però quando li comprate fate attenzione perché non sono tutti uguali perché ciò di tutti i prezzi fa tutti la stessa cosa scaldano però non lo fanno tutti uguale allora prima cosa importante per induzioni una cosa che si vede un po la qualità o no è se hanno il bordo di metallo o no questo c'è il bordo di metallo e questo pure alcuni non hanno il bordo di metallo hanno il bordo di vetro direttamente così quello inconveniente che se prendete una padella e date una botta qua se spacca se crepa il bordo di metallo protegge allora voi direte questa qui è una bosch bella marca bosch bordo di metallo bordo di metallo invece questa qui è una placca che fa un piano cottura che fa abbastanza schifo perché per tutto è lento a morte come reazione guardate accendi ok per cambiare la potenza del fornello bisogna premere questo bottone qui con questo bottone ecco su questo faccio aumentare la potenza di questo se voglio scaldare questo o questo qui devo premere selezionare il buon coso e poi aumento guarda che lentezza aumenta piano 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 e poi se fate così non è commenta più velocemente se premete di tenere premuto poi dice i puntini c'ha 9 per esempio 9 poi c'ha 8 e mezzo poi c'ha 7 e mezzo col puntino 7 c'ha parecchie potenze però come vedete è molto lento stessa cosa volete mettere il timer mettiamo che voglio mettere il timer qui allora devo selezionare produttora buona zona era già selezionato voglio premere qui e lui che fa ha di base quando tu fai più può metter il timer ti parte da 30 minuti puoi scendere e guardate con che velocità scende c'è un po scende più veloce e se vuoi aumentare pure bello lento 4g di più tac tac se vuoi fa un'ora insomma ecco fatto poi ti fanno è pure il touch è molto poco reattivo e questo è molto scomodo perché se vi sta usci fuori qualcosa da una pentola e poi da abbassarlo subito non ce la fate o se vuoi spegnere subito un coso non ce la fate perché questo qui l'ho usata un mese e mezzo che la uso detto no cioè non è più possibile cucina sono passato peso questa usata questa è una sauter come già vedete una grossa differenza è che c'è quattro indicatori diversi c'è quattro quattro pannelli ogni pannello per ogni zona in più guardate qua questa qui è una amplitude ovvero che qui dentro qui ci può mettere o una casserole piccola o una padella molto grande o una cosa che anche che sia dimensione intermedia mentre qui in questo modello qui no perché questa qui qui o ci metti una cosa grande qui ci metti una cosa piccola non funziona funziona molto male c'hai ogni zona c'ha la sua dimensione e invece qui no qui c'è doppia zona diciamo che si chiamano le cose doppia zona che è molto meglio perché può capitare dove c'è due cose piccoline e le metti qui e riesci a scaldare contemporaneamente guardare qua la reazione tempo di reazione si accende guardare qua appena premi come sale velocemente 12 questo è un boost vedete com'è più rapido inoltre c'hai due scelte rapidi puoi fare dolce cioè tiepido oppure forte del tente dei tasti di scelta rapida che poi questi sono anche programmabili per cui molto rapidamente puoi scegliere inoltre c'è il pulsante boost puoi fare boost e 30 prendo qui ti mette la potenza massima una potenza molto superiore mentre qua su questa qui per fare boost allora ve lo faccio vedere che voglio mettere la prima boost premo questo seleziono questo tengo premuto quanto tempo ci mette arrivi a 9 si blocca deve avere un'altra volta e ti fa boost un'eternità qui che fai accendi boost un secondo inoltre guardiamo qui un'altra cosa simpatica il tela per mettere un timer qui guardate quanto è più rapido a salire e adesso arriva fino a 30 e poi tac 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 vedete come sale molto più rapidamente ed è molto molto più comodo inoltre c'è anche un'altra opzione che è il tempo così che non mi ricordo a che serve comunque poi qui c'è il blocco bambini anche qui c'era il blocco bambini normale varie protezioni ci hanno altri se esce del liquido e va qui sui pannelli tutto si blocca il controllo di sopra temperatura se avete lasciato una casseruola vuota o è finito la roba che c'è dentro si spegne se scalda troppo c'è tutta una serie di protezioni io sinceramente l'induzione la consiglio la consiglio perché alla fine il gas che si consuma di più è quello per riscaldamento l'energia che deve usare consigliate che l'induzione a differenza del gas per scaldare ma a velocità proprio incomparabile cioè qua in un minuto riuscire a far bollire l'acqua della pasta due minuti ti è poi dipende da quanta c'è ne avete comunque fate l'acqua della pasta per 2-3 persone in due minuti l'acqua bolle poi consuma in effetti meno proporzionalmente che al gas perché perché questo qui l'induzione scalda al 100% il tuo recipiente mentre il gas scalda il recipiente intorno tutto quanto questo qui ti scalda solo ed esclusivamente il tuo recipiente il recipiente caldo in maniera molto omogenea e riesci a far cuocere cose più rapidamente tutto quando bisogna portare le cose a ebollizione scaldare rosolare perfetto rapido e veloce per cui in verità diciamo che consuma di meno perché ci sta meno perdita termica cioè il calore veramente l'energia viene tutta concentrata veramente sull'alimento nella nella padella inconveniente servono delle padelle specifiche delle padelle in acciaio ma molti ci avranno o in ferro già ce n'avete forse un po di meno in italia o dei mix un po c'è delle padelle che sono di alluminio all'interno e fuori con degli strati di o di acciaio di ferro però sono un po più difficili e costose da trovare però sono il top altra cosa a dire potete comunque in teoria usare qualsiasi tipo di recipiente perché basta che mettere sotto vengono dei delle placchette in metallo che si mettono sotto e fanno da scambio termico tra la placca induzione e il vostro recipiente per cui coccio vetro anche alluminio potete metterlo le cose di ghisa per vanno non c'è nessun problema per cui c'è delle bistecchiere perfette e che dirvi io con l'induzione mi trovo molto bene ve la consiglio allora è un investimento perché comunque ecco questa qui nuova penso costi tra 250 euro però però sinceramente a me non mi si è mai rotta cioè tutte quelle che ci ho avuto ottenuto cinque sei anni non ci hanno mai avuto problemi la cosa importante la cosa importante è la reazione ora che vedere qui il lavoro da schifo ecco un'altra cosa guardate questo qui è la bosch non so se si vede tanto ma comunque la bosch qua sotto è fatta tutta in plastica mentre la sauter è tutta in metallo è che calè la differenza è che il metallo di si va molto molto meglio il calore e per cui ecco una cosa vicino importante è lasciare un po di spazio tra il forno e il piano cottura perché deve comunque prendere aria da dietro e anche lasciare aperto magari fare anche una griglietta qui qui sopra che non è stata fatta qui non l'ho fatta perché hanno lasciato aperto sti zingaraci in modo che l'aria possa da sotto entrare andare su e essere buttata avanti e anche qua sopra qui la parte qui sopra non bisogna chiudere tutto il frontale bisogna lasciare un pochino di spazio perché come vedete qui sono delle griglie dovete meglio quanzi delle grigliette da reazioni che buttano fuori l'aria che deve uscire da qua davanti praticamente se non che successe si scalda troppo la parte interna qui e anche tutto il sistema perde potenza e non riuscite avere il massimo della potenza un altro inconveniente è come vedete questa qui consuma 4.600 watt e in totale questo tipo arriva anche a 7 kilowatt per cui forse c'è se potesse ci può essere necessario di aumentare il contratto è passato da 3 a 6 kilowatt però vi costa di meno che il contratto del gas spero che il video vi possa essere stato utile se c'è qualche domanda mettete nei commenti iscrivetevi al canale qualche like se trovate che il video utile e dai ci vediamo al prossimo video ciao